Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo di metodo Feuerstein e soprattutto del meta-apprendimento. Come si legano questi due argomenti che abbiamo trattato in modo separato e anche congiunto in alcuni aspetti all'interno di questo canale. Adesso voglio cercare di tirare un po' le somme e farti capire come dovresti inserire questo metodo e poi il principio del meta-apprendimento all'interno del tuo processo di studio. Quindi in sostanza andiamo a chiarire alcuni dubbi e a completare quegli aspetti che ancora non abbiamo abbastanza approfondito. Ora partiamo ovviamente con ordine. Il metodo Feuerstein funziona grazie al meta-apprendimento. Il meta-apprendimento non è altro che un termine un po' complesso ma che possiamo semplificare per arrivare al nocciolo della questione in questo modo. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare per riuscire ad apprendere nel modo corretto. Ora, se fai attenzione, questo ragionamento non è altro che tutto quello che facciamo per cercare di migliorare all'interno della nostra carriera universitaria. Quindi è evidente che il meta-apprendimento non è qualcosa che si applica solo ed esclusivamente al metodo Feuerstein ma in generale rappresenta il principio alla base anche un po' di tutto questo canale. Cioè siamo in grado di capire cos'è che funziona e cos'è che non funziona quando studiamo e replichiamo e andiamo anche ad approfondire solo quegli aspetti che funzionano realmente. Li applichiamo nella nostra pratica di studio quotidiano e di conseguenza otteniamo i risultati che desideriamo, che vogliamo ottenere. Quindi questo è il principio, il meccanismo del meta-apprendimento e questo quindi si applica tra le tante cose anche al metodo Feuerstein. Poi, questo metodo non è esattamente un metodo di studio, quindi è un po' un disclaimer che dobbiamo fare, perché il metodo Feuerstein non fa altro che farci capire come, in un approccio molto ampio, dovremmo andare non solo a studiare in prima persona, ma non da un punto di vista delle tecniche di applicare, ma di qual è quella mentalità corretta che dobbiamo utilizzare. E in più viene utilizzato e viene stimolato l'aiuto da parte di qualche mediatore per l'apprendimento. Cioè sono delle persone, in questo caso per esempio potrei essere io, che svolge il ruolo di aiutare qualcun altro nel poter apprendere. Questo è il terzo principio, te ne parlerò fra qualche istante, ma hai capito quindi che il metodo di apprendimento è il principio della base. Il metodo Feuerstein è uno dei metodi non di apprendimento nello specifico, un metodo di studio nello specifico, ma più che altro un approccio che dovresti utilizzare e seguire per studiare in modo efficace. Quindi non ti svela delle tecniche precise, non ti spiega come per esempio si prendono appunti in modo specifico e pratico, ma ti dice qual è il giusto approccio che devi avere quando studi, sia tu in prima persona che chiunque altro vorresti aiutare o può aiutarti. Quindi questo è molto importante, troviamo il metodapprendimento praticamente in tutto quello che ci interessa per riuscire a studiare in modo più efficace. Ora, se vado ad applicare il metodapprendimento in modo corretto, esteso e in tutti gli aspetti dello studio universitario, ottengo un metodo di studio che è quello che ho creato io in prima persona, l'ho utilizzato per tanti anni, l'ho collaudato e quindi ho ottenuto i risultati che all'inizio non erano incredibili, perché ancora non ero riuscito a formalizzare tutte le strategie e le tecniche del metodo di studio che ti vado a presentare adesso, e che col tempo invece sono riuscito a realizzare e a concretizzare, appunto quindi di aver creato il metodo DQE. DQE è un acronimo, sta per Domina Qualunque Esame, e il metodo di studio che, come ti dicevo qualche istante prima, ho creato perché ho voluto fare in modo che tutto quello che sono riuscito ad ottenere in prima persona potessero ottenerlo anche tutti gli studenti che voglio aiutare. Ora, ovviamente all'interno del canale, a livello anche gratuito, voglio, e l'ho fatto con quasi 700 video, aiutare tutti quelli che hanno questo desiderio di voler essere degli studenti o delle studentesse migliori rispetto a quanto sono in questo momento. Quindi chi non sa studiare vuole migliorare un po', chi ha già una buona base vuole fare lo step successivo, e il metodo DQE ti permette a qualunque livello ti trovi in questo momento di arrivare al massimo, quindi non superare qualche esame. Come dice il nome stesso, dominare qualunque esame, quindi qualunque situazione in cui devi andare a sostenere un esame, quindi hai studiato per una materia a livello universitario e vuoi ripetere un buon risultato, un ottimo risultato per tutte le materie, ecco che il metodo DQE fa esattamente al caso tuo. Quindi come vedi, il meta-apprendimento esiste, è un principio e può essere applicato a vari livelli. Questo, quello che ti propongo io, il metodo DQE è la massima espressione del meta-apprendimento. Quindi ti lascio il link in descrizione se puoi andare a vedere tutti gli enormi vantaggi di cui puoi soffrire entrando all'interno del metodo DQE, e quindi hai tutte le caratteristiche come strutturato e anche come puoi accedere approfittando di un'offerta arancio. Fatto questo, quindi definito questo che è la massima espressione del meta-apprendimento, un altro modo, anche se non è assolutamente paragonabile in termini di precisione e dettaglio al metodo DQE, è appunto quello del metodo Feuerstein. Oggetto di questo video è che ti vado a presentare secondo tre diversi principi. Poi se vuoi approfondire nello specifico il metodo Feuerstein, hai tantissimi altri video nel mio canale in cui te ne parlo con il dovuto dettaglio. Comunque qui andiamo a delineare tre principi. Il primo principio molto importante è il fatto che non c'è esattamente un'età in cui puoi cambiare. E questo si può applicare in qualunque contesto, ma nello specifico soprattutto a livello universitario. Quindi a prescindere dalla tua età, se sei molto giovane, un'età normale per lo studio universitario, o hai già accumulato un pochettino di esperienza nella tua vita e adesso vuoi ritornare a studiare a livello universitario, l'approccio che ti fornisce il metodo Feuerstein è quello di poterlo fare. Quindi non c'è un'età specifica per il cambiamento. Questo può avvenire in qualunque modo. Il cambiamento si intende anche riuscire a migliorare da un punto di vista della nostra formazione personale anche con un titolo o più di un titolo a livello universitario. Quindi questo è il primo principio. Il secondo principio riguarda il coinvolgimento. E qui comincia a entrare anche in gioco l'importanza del docente. Per questo ti dicevo che non hai delle tecniche nello specifico, ma hai un approccio in generale. Infatti il docente deve essere in grado di coinvolgere l'allievo o l'allieva. In generale gli allievi. Questo coinvolgimento è ben diverso da quello che normalmente viene inteso come insegnare, spiegare. Ti dico qualcosa, me la ripeti, se la ripeti nel modo corretto sei bravo o brava. Se no, non sei bravo o non sei brava. Assolutamente no. Quel coinvolgimento deve essere attivo. Il ruolo principale, proprio il ruolo di chi fa qualcosa, è proprio quello dell'allievo. Non è solo un registratore di informazioni prese così per buone, senza capire in che cosa consistono. Quindi questo è il secondo principio. Se con il primo principio abbiamo capito che a qualunque età va bene, si può iniziare a studiare, si può cambiare, questo si aggiunge anche ad un secondo principio, che è quello che ti ho esposto qualche istante fa, sul coinvolgimento. Chi studia, l'allievo o l'allieva, deve essere coinvolto nella sua interezza, soprattutto a partire dai propri interessi e delle proprie curiosità. Fatto questo, arriviamo di conseguenza al terzo principio, te l'ho accennato all'inizio del video, e riguarda la capacità del conduttore, in questo caso del mediatore, dell'apprendimento, di farti capire esattamente come dovresti apprendere. Quindi qui c'è la necessità di qualcun altro che ti indirizzi nella giusta via. Questo è ciò che più o meno cerco di fare all'interno del mio canale, cioè farti capire cosa funziona e cosa non funziona. Proporti diversi livelli di miglioramento e quello al top, ovviamente, quello che ti dicevo qualche istante fa, con il metodo di cui, ti ripeto, ti lascio il link in descrizione. Se invece hai dei dubbi, delle domande, vorresti approfondire questo o tantissimi altri argomenti a livello universitario, puoi scrivere nella sezione dei commenti, oppure nella descrizione trovi dei contatti se vuoi cercarmi personalmente. In ogni caso, io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, questo era il metodo Feuerstein, ma soprattutto il mediatore di apprendimento, e quindi con tantissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.